L'Unione Europea ha deciso di inviare una missione navale difensiva nel Mar Rosso per proteggere i corridoi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Gli attacchi sono stati lanciati dal gruppo ribelle a partire dalla metà di novembre in risposta al sostegno militare che molti stati hanno fornito a Israele nella sua guerra contro Hamas. La missione sarà basata solo in mare e l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Joseph Borrell ha dichiarato che non includerà alcun tipo di attacco offensivo contro gli Houthi simile agli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito. La missione denominata Aspides, parola greca che significa protettore, coinvolge quattro paesi, Grecia, Francia, Italia e Germania ed è stata costituita in risposta ai crescenti disagi causati dai ribelli nel Mar Rosso che stanno influenzando le rotte usate per il commercio globale. I ministri degli esteri dell'Unione hanno approvato all'unanimità la missione con quattro navi, anche se molti non vi prenderanno parte.